allora ragazzi in teoria in teoria sono in diretta vediamo se funziona tutto vediamo se mi vedete io mi vedo quindi spero mi invidiate anche voi spero che funzioni soprattutto l'audio che sia riuscito a mixare l'audio dello streaming che inizierà tra dieci minuti e il mio audio ma dovremmo esserci benvenuti che bello questa questa modalità di fruire delle dei lanci delle delle conferenze stampa non devo più prendere mille aerei posso interagire con voi possiamo commentare quello che sta succedendo live insomma a me piace piace particolarmente datemi i vostri feedback un sacco di ciao nella nella nello streaming dei vostri messaggi tutto perfetto ma grazie ma buongiorno ciao riccardo ciao elos ciao salvo ciao andrea ciao david ciao anto ciao marco ciao angpash passion ciao gianluca ciao a tutti e sempre ogni tanto sì non è che sono strabica perché i commenti ce l'ho di qua la cam ce l'ho davanti davanti e quindi e quindi niente mi devo un pochino dividere tra uno schermo e l'altro allora di cosa parliamo oggi parliamo di l'avete visto nel titolo di realme che lancia il suo smartphone 5g il x50 allora poi vi racconto una cosa praticamente avevo un embargo cioè l'embargo cosa vuol dire vuol dire che io non posso parlarvi di una cosa fino a che questa cosa non è pubblica quindi non mi potevo dire che era realme x55g in realtà poi ieri vado a vedere sul sul sullo youtube di realme e vedo che è già tutto è già tutto online il nome del prodotto e allora e allora ve l'ho spoilerato quindi presentazione di oggi che inizierà tra 8 minuti e 17 secondi guardate caspita ho messo il mio faccione allora vediamo se riesco a spostare il mio faccione ok così abbiamo il countdown poi magari lo rimettiamo dall'altra parte tra 8 minuti e 7 secondi rafael gray che scrivi il 5g porta il covid da parte covid 11 scritto è covid 19 ma no ma dai ma io spero che tu sia sia stato ironico perché assolutamente non è così l'incognita sarà l'audio dello streaming non perché non ci sia audio dello streaming ma perché dovete sapere che con il mac andare a settare tutte queste cosettine non è proprio semplicissimo avrei dovuto usare un pc oggi per fare lo streaming ma vabbè non ce l'ho fatta settare tutto sono sempre di corsa qualcuno è scritto è scritto insieme invece che insieme vabbè dai ragazzi la fretta un errore di battitura concedetemelo ciao a matteo ciao a david il 5g allora il come il 5g fa davvero così male il 5g non è un toccasana non è una medicina non è che voi mettete sotto un'antenna 5g e guarite tutti i mali ma quindi non è una cosa che fa bene non ci sono studi validati sul faccia male ma non quello che vorrei far passare che anche se facesse male ci sono delle normative della diciamo della italiane che limitano la potenza di trasmissione delle antenne in 5g che sono molto conservative ma soprattutto è uguale al 4g è uguale al 3g è vero le frequenze sono diverse ma le potenze sono inferiori il digitale terrestre che abbiamo utilizzato fino all'altro giorno viaggia sulle stresse e frequenze a volte con potenze superiori rispetto al 5g quindi sono onde elettromagnetiche poi allora dovremmo aprire un capitolo le onde elettromagnetiche fanno male è però li ripeto studi che provano scientificamente che facciano male non ce ne sono ci sono delle correlazioni sulle temperature del cervello quando tiene il telefono vicino però per ora è così quindi tutti quelli che legano il covid al 5g prendono un enorme castroneria allora dovremmo fare un discorso generale sulle onde elettromagnetiche allora li potrei iniziare a ascoltare ma se uno continua a dire 5g covid fa male vacate ciao a tutti x50 pro non aveva già il 5g fabio scrive ma sì ovviamente aveva già il 5g ma ovviamente questo ha un processo non posso dirvi niente aspettiamo il live che inizierà tra 5 minuti e 25 ciao alessandro certo che ti saluto quando uscirà la recensione dell'x50 ma ragazzi uscirà subito dopo il live diciamo alle qua è qua guarda vi faccio vedere la scatola non so se posso farvela vedere ma io la faccio vedere lo stesso è questa vabbè tanto è uguale a tutte le altre realme lo sto provando al giorno dell'unboxing che era quello il telefono imbargato ce l'ho qua ma non posso farvelo vedere ve lo faccio vedere appena inizia il lancio funzioncini interessanti non mi sbilancio troppo secondo me quella del 5g e il covid è una fake news ma è ovvio ciao andrea un saluto da silicon valley luca che bello sei in silicon valley fantastico ciao poi vediamo un attimo ciao gale da anthony mi saluti ciao luca un saluto dalla russia ma veramente sei in russia ma grandissimo fantastico ciao andrea quando torno in sardegna viaggiare è un po' un casino avevo già pronotato i biglietti per la sicilia prima di tutto l'occasione del covid mi hanno annullato il volo sono riuscito a recuperarlo non so se mi avete seguito le peripezie su sulle storie instagram e niente però diciamo che ho recuperato quindi quest'anno si va in sicilia mamma come scorrono i commenti non riesco a stare dietro a tutti cosa ne pensi della rinuncia del regno unito a cosa al 5g no attenzione non hanno rinunciato al 5g visto il problema di ban con huawei stanno rinunciando le forniture huawei per il 5g non è ancora certo ma non rinunciano al 5g pasqualino stiamo rovinando il mondo con le onde elettromagnetiche allora non mettiamo sullo stesso piano le onde elettromagnetiche l'inquinamento da diciamo materiale fossile quindi petrolio carbone macchine sono proprio cioè è su quell'aspetto che dovremmo lavorare anche sulle onde elettromagnetiche forse dovremmo ragionare tutti sul quanto ci serve la tecnologia magari usiamo solo quella utile sono tutti ragionamenti che si possono fare ma non che le onde elettromagnetiche inquinino più di altre fonti inquinamento che inquinino ben di più dove vai sicilia questo lo scoprirete solo vivendo ciao laura una ragazza ci maglia certo che ti saluto più che volentieri non hai già fatto recensione no ragazzi la recensione uscirà dopo lo streaming e quanto manca due minuti e 54 secondi buongiorno andrea come va ma bene 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 oggi tra l'altro a mio c'è una rietta fresca sta veramente molto molto bene facciamo una cosa facciamo che nel frattempo che aspettiamo questi due minuti vado a spammare il link dello streaming su instagram sentirete un po' l'audio dopo perché adesso ho attivato anche il realme con il quale sto facendo tutto ok condividi ma chi è che mi chiama col numero nascosto a questo ramadai ovviamente non rispondo mai ai numeri nascosti ok copio il link vado di là su instagram non vi dico la fluidità di questo telefono perché comunque allora facciamo così guardate facciamo così tac faccio una foto a obs visto nella fotocamera speriamo di no se no realme mi spara linkino link web vi posso dire che ma questo ve lo posso dire dai che è fluido che è veloce e che e che funziona bene o quanto è difficile fare una cosa e dirne un'altra hashtag direi siamo live siamo live e ok e direi schiacciamo anche scriviamo anche un vai swipe up live ok ci siamo tac tac storia fatta perfetto vai e non si è chiudato funziona bene fluido il processore ve lo dico tra un minuto 17 secondi perché oggi dovrebbe essere presentata anche un'altra cosa e non vi dico niente ma spoiler spoiler no non è questa è però spoiler la tipologia oggi è la giornata di spoiler tanto dobbiamo far passare ancora un minuto quindi dai ci sta un po' di spoilerino vediamo un po' qua il 5g come il 4k il 99 della gente sa se va bene a schermi 80p ma per adesso sì però il 4k adesso sulle televisioni anche quelle base ci sono quindi la conferenza dovrebbe essere in inglese dovrebbe essere sottotitolata in italiano quindi se starò zitto è perché il mio inglese è pessimo quindi devo concentrare un attimo per sentire quello che diranno e poi tradurvelo buongiorno Andrea il 5g non darà alcun valore aggiunto sugli smartphone lo mettono solo per il marketing ma in realtà beh ni nel senso che alla fine la differenza di banda c'è e si sente quando magari il 4g vi fa fatica a far vedere qualcosa magari se avete il 5g è quella marcia in più per riuscire a vederla soprattutto in caso di affollamento perché si distribuirà la banda tra 4g e 5g e soprattutto magari nei giochi online perché è meno latenza tra l'altro anche qua non posso dirvi niente ma ve lo dirò dopo perché l'ho già provato questo x50 ha una tecnologia proprio che dà più senso diciamo al 5g mi saluti ciao de Leon Gamer proverà il Realme 6s non lo so ciao da bagheria da bagheria no non venga bagheria ma chissà 350 euro mi consigli la 71 oppure la 51 arriverà il confrontino a 51 zitti tutti inizia il live speriamo di avere l'audio inizia con il solito filmato emozionale datemi feedback se sentite l'audio del video qua devo mettere io vedo che sta andando questa scena mi sembra di averla rivista ha messo due volte il video iniziale o è un video diverso questo chissà se riusciamo a riconoscere insieme che tipo dove di averla rivista questa scena mi sembra di averla rivista una città vabbè comunque secondo me hanno sbagliato perché hanno rimesso per la seconda volta il live vabbè dai c'è poco da commentare il solito video emozionale solitamente questi video vengono proiettati quando ci sono le conferenze stampa internazionale su un grosso led wall e poi qua solitamente arriva sul sul palco il ceo di turno eccolo qua oh sono anche sotto i dati fantastico product manager di realme ok sto raccontando che l'europa è un mercato importante per la realme tra l'altro realme brand che punta molto al rapporto qualità prezzo l'obiettivo con sviluppare la strategia 5g più iot e da questo punto di vista devo dire che allora io ho al polso vedete questo qua è tutto l'ecosistema che stanno studiando ho al polso il realme watch lo cost vi posso già spoilerare che funziona bene la batteria dura abbastanza per quello che costa ci sta poi tra l'altro la band che non ho ancora messo al polso ma che presto metterò il polso e poi vi dicevo queste che sono le buds air mio ma oggi dovrebbe arrivare qualcos'altro vedete poi tutte le altre cose la bilancia connessa insomma va un po' in quella strategia di ecosistema anche di altri brand che secondo me ha senso perché poi i smartphone diciamo sono veramente tutti molto simili creare un ecosistema ha un gran senso non so cosa ne pensate voi datemi un feedback su l'audio della diretta come lo sentite qua nei commenti tra l'altro risaluto tutti quelli che mi stanno salutando e realme ha invitato migliori designer artisti di vari settori del mondo a formare il realme design studio per creare prodotti questo è interessante perché poi alla fine quello che va a differenziare uno smartphone rispetto agli altri è il design collaborando con mi sono perso il nome mi sembrava giapponese artisti per arricchire il design studio in Europa e Giappone Corea del Sud e Stati Uniti quindi anche fuori dalla Cina creare più smartphone e prodotti IoT allora sul più smartphone non sono proprio d'accordo perché già c'è un'invasione di smartphone sui prodotti IoT invece assolutamente sì feedback su abbassa un attimo il live ok che va magari in distorsione ho abbassato un però il live art director del realme studio colorista eccezionale belli i colori della scatola però le scatole dei realme sono tutte gialle magari do a José uno spunto per magari fare anche che ne so colori diversi però ci sta perché poi il branding anche nel colore ha un senso magari vedete già le pensate a realme c'è sempre un perché di tutto anche sul colore della scatola ehm vediamo che parli di Milano allora realme buzz Q sono le nuove cuffie l'ha detto lui e andiamo a vedere cosa ci fa vedere questo è il design studio la creazione è costruire, deconstruire, integrare e soprattutto cercare di nuove proposti la creazione non deve mai essere l'ennemi della fantasi ciao ciao la creazione è costruire 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 come una pierre che ruiva sui d'armi la creazione è costruire la creazione è costruire la creazione è costruire in vivo spero che sia la creazione dell'origine beh adesso lo dirà come vedete vedete Quindi ha puntato tantissimo su fermezza d'uso e comfort per l'aggiustamento profondo pulitivo. Adesso poi diciamo, questo è un po' pippe da design. A me appassione il fatto che ci siano le curve, respirate le gocce d'acqua, queste cose qua. Però sono un po' pippe da design. Però ci sta perché l'attenzione al dettaglio fa anche capire la qualità, poi è lo studio che c'è dietro a un prodotto. Questo è un po' pippo. E' un po' pippo. E' un po' pippo. E' un po' pippo. 3,6 grammi ogni cuffia, totale 35,4 grammi sembra veramente poco. Sometimes I don't even feel like I'm wearing the Bugs, even with the charging case. It's only 35.3 grams, which is almost as heavy as a stick of lipstick. Whether it's placed in the pocket or in a bag, surely it won't be a burden for you. Buds Q looks to be small, however, it has an amazing battery life. Realme Buds Q gets a total of 20 hours of music playback. With an average of 3 hours a day of using it, the Realme Buds Q only needs to be charged once a week. Buds Q can also be connected to the device via Bluetooth 5.0 and also supports auto-connection by simply opening the charging case. The side of Buds also has a touch area to support multiple touch controls, such as switching music or going to the next track. Of course, Buds Q supports the gaming mode and the latency can be reduced to 119 milliseconds. With a 10mm Bass Boost driver, you can enjoy an immersive sound experience. In terms of the two key data of sound quality and low latency, we can compare Buds Q with some popular competitors. Whether in track size or latency, Buds Q has the advantage. Buds Q are water and dust resistant with an IPX4 rating. So you can wear them when doing sports without too much to wear. Okay, impermeabili alle gocce di sudore. Of course, Buds Q also supports the Realme Link app. So users can customize touch controls in it. Well, this is the new member in our earbuds product line, Realme Buds Q. It has the cold shape designed by Jose Levy. Combined with a light size, long battery life, large driver and low latency. Buds Q will be the best entry level TWS Buds you can buy. Here comes the price and availability. I'll be carichi, the custodia. Eh, no, vabbè, ragazzi, best buy 29,99. Offerta speciale, no, 19,99. Vabbè, vabbè, ragazzi, spero che mi arrivino presto. Ma il 19,99 mi è veramente spiazzato. Realme si riconferma a livello prezzi. Rapporto qualità-prezzo eccezionale. Il 19,99 è veramente poco. Altro volume da tua voce. Ragazzi, io qua sono quasi al massimo, eh. Devo urlare un pochino di più. L'X50 Pro, quello che ho già provato, c'è sempre poi nei momenti delle presentazioni un riassunto di quello che è stato, che è successo. E ho abbassato lo stream, ho fatto la mia voce. Abbasso ancora un pochino di più. Ditemi se adesso va bene. Qua adesso ovviamente parla del 5G, velocità di rete, la democratizzazione del 5G. Questa parola, ecco, qua ho una tirata orecchia a tutti, eh. A tutti i produttori che quando parlano di un 5G low cost parlano di democratizzazione del 5G. Vabbè, beh, cercate di cambiare termine. Volevo fare divulgatore del 5G. In realtà, l'X50 Pro è stato uno dei primi 5G che ho posto con l'865. È uscito a 599, è uno dei telefoni che ho qua in cantinetta. Ok, grazie che mi dite che adesso i volumi sono giusti. Dai, facci vedere la ciccia, facci vedere il telefono. Ok, il 5G è il futuro dell'intero settore. Tra l'altro, il 5G che, a mio parere, più che il settore degli smartphone, dove non sarà una rivoluzione, ma una naturale evoluzione. Quando è arrivato il 4G non ne sentivamo la necessità, ci andava benissimo il 3G perché riusciamo a vedere i video su YouTube. Poi, in realtà, adesso, quando vi mettete in 3G, vi rendete conto che il 4G è una marcia in più e succederà sicuramente la stessa cosa tra qualche anno quando il 5G sarà diffuso. Tra l'altro, vi dico, vabbè, no, non ve lo dico, perché poi spero lo diranno loro nelle specifiche che qua c'è una cosettina che mi piace particolarmente. Qualcuno scrive, 5G non serve, viva il 2G. Ragazzi, il 2G vi salva la vita, perché non prende nessun altro telefono il 2G. Prende, eccolo qua. Realme X50 5G, l'hanno fatto vedere, quindi ve lo posso far vedere anch'io. Eccolo qua, in questa colorazione. ha il refresh rate, vuol dire che il display, e ve lo faccio vedere, è a 120 Hz. Questo vuol dire gran fluidità nel fare le cose. Il X50 Pro era a 90 Hz, questo è a 120. Vi apro anche Instagram e ve lo faccio scorrere. Ovvio, adesso qua c'è il lag della cam, il lag della connessione, 1000 lag, però, 120 Hz, tanta tanta roba. So che vi state chiedendo, ma è APS o è AMOLED? È APS, da qualche parte dovevano pur risparmiare, perché il prezzo sarà veramente interessante, ma questo non ve lo posso spoilerare adesso. Display ottimale che non è mai in ritardo. siamo puntato tanto sulle prestazioni in questo telefono, perché anche il processore, che adesso probabilmente diranno, è un processore che lo fa girare veramente bene. Vedo che mi chiedete in tanti quanto costa, non ve lo posso ancora dire, seguite il live, ho firmato un NDA, quindi finché non lo dicono loro non lo posso dire io, ma il prezzo è interessante. Io lo dico. No, non vi dico il prezzo, ma dico che è in 5G che al lancio costa meno assoluto. Basta, non vi dico più niente. Rendendo lo scordimento fluido, chiarezza mozzafiata, ok, i 120 Hz, tra l'altro si possono settare come, adesso vi faccio vedere, eh, già che ci siamo, visto che siamo qua live e in diretta sul display, si possono settare come 120 Hz, come ho fatto io in questo momento, e queste tra l'altro sono le applicazioni che sono già compatibili con i 120 Hz, oppure a 60 Hz, oppure gli si può lasciare la scelta automatica, così da andare a 120 Hz solamente quando si attivano i programmi che lo supportano. 6,57 pollici il display, Gorilla Glass davanti e dietro. Adesso qua non si vede, facciamo che cambio background così, 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 vi faccio vedere le camere anteriori, come impattano. Ok, metto questo sfondo che si vede meglio. Sono due le camere anteriori e vedete che sono la, un foro nel display nell'angolo in alto a sinistra. a me non danno fastidio, anzi, il... vuol dire che non mi dispiace il design del... Ok, stavo leggendo i messaggi, ma basta, basta perché sono in live con voi. Ok, si sono ispirati alla giungla gli elementi di ghiaccio per il retro dei telefoni, perché ci sarà Ice Silver oppure questo verde. Qual è questa ispirazione? Jungle Green, un verde giungla, è questa cangentezza, non so se dici cangentezza, l'ho detto ormai, ma questo, diciamo, cambiare colore che non è male. Allora, qualcuno mi chiede OLED? No, ve l'ho detto, IPS, risoluzione full HD+, ed ecco, spoilerato, no spoilerato, annunciato ufficialmente il processore, è lo Snapdragon 765G 5G. processo di produzione 7 nanometri, vi faccio vedere la velocità di questo processore, ho aperto Instagram, apro Twitter, ma apro anche il maledetto gestore delle pagine, e adesso facciamo così che cancelliamo quello che stavo facendo. Allora, facciamo un'altra cosa, tac, chiudo tutto e vi faccio vedere il tempo di apertura del gestore delle pagine. avete visto? Super super fast, è un processore che fa girare molto bene questo telefono, ma sapete Qualcomm con gli Snapdragon ci prende bene. 12 bande 5G, che sono tante, ma soprattutto, dovrebbe dirlo adesso, speriamo, vediamo, esperienzerete 5G più veloce e completa di sempre, non ha le millimetric wave. Qualcuno in chat scrive, esiste un AMOLE da 120 Hz? Sì, esistono gli AMOLE da 120 Hz. Vedete, qua vi dice quello che ho detto già io, processo di produzione a 7 nanometri. È un telefono che consuma come l'865, quindi è nella media. Diciamo che con il 5G il consumo si è elevato rispetto al 4G. è un telefono che già vi posso dire, vi sto spoilerando la recensione, utilizzo standard, arriva tranquillamente a fine serata. Eccolo qua, la cosa che mi è piaciuta di questo telefono. Smart 5G, quindi l'auto switch tra 4G e 5G in base a cosa utilizzate. Browsing web, Whatsapp, Telegram, tutte quelle applicazioni che non hanno bisogno di tanta banda si vanno agganciare al 4G, questo automaticamente lo fa il telefono. Quando lui sente che sta usando giochi, sta facendo streaming video e quindi sa che vi servirà più banda o minor latenza, automaticamente switcha il 5G. Voi nell'iconcina qua in alto vedrete sempre e comunque 4G, ma se fate uno speed test mentre state usando web browsing vedete che lui in realtà la connessione è del 4G. Invece quando ha fatto uno speed test e l'ha provato con magari mentre giocate a Real Racing o altre cose che chiedono più banda, va in 5G. Quindi oltre ad avere l'associazione delle bande, diciamo, per andare a migliorare la banda. Diciamo che questa è una roba in più perché c'è un telefono, bande del 5G o del Wi-Fi, cioè basta e avanza, però si possono anche andare ad unire. E sta dicendo proprio questo. Ok, sta raccontando che hanno il sistema di, diciamo, connessione più diversificato al mondo e anche più connesso tra loro. Gianluca scrive che un 7nm lo vede sbilanciato, ma in che senso sbilanciato? Più è piccola la tecnologia dei transistor, più l'efficienza energetica è alta. Quindi direi di no. Le prestazioni delle 765G, vabbè qua parla del processore, 765, prestazioni dell'intelligenza artificiale, che altro non sono che istruzioni per andare a eseguire gli algoritmi, l'intelligenza artificiale più velocemente, perché sempre di numeri parliamo. Ragazzi, un processore sapete cosa fa? Calcoli. Quindi quello fa. Ok, le possibilità di avere una predizione, un'ottimizzazione delle performance sui giochi. Lui impara più giochiamo. Tra l'altro c'è, vedete qua, lo spazio giochi che se voi attivate ha proprio la possibilità di andare a ottimizzare questo che vi sto dicendo, modalità bilanciata, poi c'è dalla modalità competizione la modalità di basso consumo. Ovviamente io sono in modalità competizione per far andare i giochi super velocemente e quando aprite un gioco, per esempio Real Racing, vi faccio vedere in quanto poco si apre. Praticamente l'ho lanciato un secondo fa e si apre in circa 7-8 secondi, quindi super super veloce. con la funzionalità del Game Space, Game Assistant, vediamo sopra anche la percentuale di CPU usata, GPU e anche gli FPS ai quali sta girando, con la possibilità anche di fare la registrazione dello schermo del gameplay. Mi piace fare, seguire la diretta di una presentazione di una cosa che ho già perché ve la posso raccontare molto meglio, quindi è figo questo. Fatemi sapere se poi questo esperimento vi è piaciuto e che magari lo ripeteremo. Ovviamente dice appunto, come lo stiamo dimostrando noi adesso, che sono state mainstream le trasmissioni proprio in streaming, live, dovute anche al particolare situazione che stiamo vivendo in questi mesi. E qua sta raccontando che appunto lo streaming è importante perché vi potete evitare di installare giga e giga di roba sul telefono e magari giocare online, stadia insegna che è già fattibile questa cosa. Ovvio che dovete avere tanti giga, dovete avere tanta banda, quindi in Italia purtroppo ancora in zone del paese limitate. Digital Divide secondo me è ancora uno dei problemi che in Italia andrebbe affrontato perché poi frena l'evoluzione, ma secondo me con questa crisi, dove abbiamo imparato tutti quanto è importante avere dati e dati stabili ed efficienti, qualcosa cambierà. Raffreddamento a liquido con le probabilmente camere di vapore, il tubo di rame è stato migliorato, raffreddamento 166, vi dico subito che è un telefono che è sempre abbastanza fresco, riscalda quando siete sotto 5G e lo usate in maniera stress. Qua dietro un filino riscalda, ma è una caratteristica che è stato comune in tutti i telefoni che montano questo processore. E quando il gioco si sta surriscaldando, Realme rimane prestante. Sì, thermal throttling non l'ho trovato, sempre sto molto veloce. Sta parlando della ricarica rapida da 30W. Il caricatore in confezione, così faccio anche l'unboxino, è questo con il suo cavo. E questa cosa mi piace tanto. 70% in mezz'ora, è veramente tanta roba. Batteria non enorme, non è da 5000 mAh, ma da 4200 mAh. Ora, vi ripeto, arriva sera, poi nella recensione sarò più specifico, con un 10%, ma dipende anche come lo usate, se è a 120Hz o a 60Hz. Io che sono un amante della fluidità, lo tengo sempre a bomba a 120Hz e ricarica veramente super rapidamente. Cristian ha scritto comunque di aver preferito AMOLED 90Hz. Anch'io, ma aspettiamo il prezzo. Dopo la ricarica, di cosa parlerà? Allora, Fabio, quanti watt? 30W. E se li succede tutti. Allora, memoria integrata, 128GB. Poi vi dico già che ci sono due versioni, una con 6GB di RAM, una con 8GB di RAM. Qualcuno scrive in chat, ha l'NFC? Sì, ti posso dire che ha l'NFC. Qualcuno scrive 399€? Ti dico meno, Giovanni, anche se non posso dire ancora il prezzo. Ok, comparto fotocamere, 48MP la principale con f1.8, che è questa qua sotto, la terza, poi la fotocamera bokeh, la fotocamera macro, ormai sapete, i produttori ce le mettono per dire, abbiamo messo quattro fotocamere, poi nell'uso pratico non è che siano poi così utili, ma c'è la grandangolare, questa sì, molto utile, 119 gradi, 8MP. Vi posso già dire che le foto vengono bene e davanti, cosa molto comoda. È vero che magari il foro dopo il display vi sta antipatico, però non è tanto grande, ma soprattutto abbiamo la possibilità della grandangolare anteriore, il che è una cosa decisamente comoda quando vi fate i selfie. Qualcuno scrive ha il jack audio? No, non ha il jack audio. Qualcuno scrive 200€, ragazzi non esageriamo, 200€ ne avrei comprate un tier per rivenderli, quindi comunque è 5G, comunque è 765, comunque ha 628, 828, vabbè, prezzo dopo. Ovviamente si possono scattare le foto sia in pixel binning, cioè unendo i 48MP, 4 pixel, quindi facendo editare foto a 12MP, che va a aumentare un minuto, oppure si possono scattare foto anche a 48MP, io lo scattamento a 12 perché ha più senso, cioè a 48 si deve stampare un poster, ma voglio dire, 12 sono già più che sufficienti. Scusate se non rispondo adesso ai commenti, ma sto proprio seguendo il live, poi mi dedicherò in 10 minuti a tutti i vostri commenti. questo l'ho provato, l'algoritmo di correzione della distorsione, è per quello che è 119 gradi, magari non è 123, non è così largo come altri smartphone, perché non va a spanciare, non fa l'effetto fisheye anche con la grandangolare. Ovviamente c'è la possibilità di HDR, l'effetto bokeh, questo ormai è standard diciamo su tutti gli smartphone, si può scattare in RAW. Questo nella modalità, ve lo faccio vedere, se andate qua nella modalità PRO, quindi andate in alto, c'è la modalità esperto e in alto, vedete lì c'è la possibilità di scattare in RAW e settare tutti questi parametri, compresa la velocità di scatto, da un 8000esimo e sempre fino a 32 secondi, quindi c'è un grande bel range. Firmato. Firmato. Ultrawide angle. Slow-mo selfie. UIS Max. Questa è la stabilizzazione che è elettronica. modalità bokeh nei video con la camera anteriore. e poi parla dello sblocco con il sensore di impronte digitale che è laterale, è velocissimo, lo faccio vedere, guardate, tac, appoggio, sbloccato. Allora, sui prodotti con display IPS, dove non possono mettere il sensore digitale dietro allo schermo, i produttori lo mettono o dietro o di fianco. Io preferisco il di fianco. I mancini mi dicono, no, è meglio dietro. Nella recensione ho fatto un ragionamento. poi c'è NFC, come vedete, supporta Google Pay, audio Dolby Atmos, in alta risoluzione anche. L'altoparlante è mono, ce n'è solo uno, è qua sotto. Oh, attenzione, sta arrivando al momento il prezzo? No, prima voglio riprodurre un video del prodotto, ce lo guardiamo insieme, e poi arriva il prezzo. Qualcosa che quante si ineggere il video? Eh, ma per me un po' il target è giovane. Cioè, i giovani magari conoscono questi brand un po' emergenti. Cioè, se vai a dire a mia mamma o a vostra nonna, magari a me, non sia una marghera di persivi. Allora, qua c'è un riassunto delle caratteristiche principali. Ehm... Qualcuno schiedeva se... se, 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 se... ha una doppia SIM? Sì, ha una doppia SIM, pur essendo 5G, e sono pochi i telefoni che hanno il 5G dual SIM. Qualità foto paragonabile al P30 normale? Ma sì, dai, più o meno sì. Io ho appena comprato Realme, Fabio. Attenzione, però adesso mi concentro sulla presentazione perché è il momento del prezzo e la disponibilità. Allora, 369 euro la versione 628, 389 la versione 828. Con un euro in più, se lo comprate il day one, che è il 17 luglio, io ho messo le cuffie. Ehm... Sto cercando di strappare a Realme un codice sconto per... visto che gli ho commentato la diretta, visto che comunque mi piacciono i prodotti, per voi, forse, forse, riesco a strappare un codice sconto del 10%, che porterebbe il prezzo a 369, meno 37, insomma intorno ai 3,30, 3,40, se non so i conti, spero. Se riesco, ve lo metto qua in descrizione, comunque in descrizione della recensione, comunque seguitemi sui social, ma probabilmente ci riesco. il prossimo video, qui ci fa vedere il prodotto, questa è la solita, come sono le presentazioni, conferenze internazionali, diciamo riassuntone di quello che è successo durante tutta la presentazione, questa è l'animazione che si ha quando si attiva la carica fast con il suo caricabatterie, fa sorridere il fatto di averlo già provato, e di vedere la presentazione adesso, e quindi commentarla, però è... Oh, basta? Fine così? Mi sa che è finito, e allora mi metto, direi, sì è finito, sta partendo un altro mio video, ma direi di annullarlo, chiudiamo tutto, e mi metto io grande, vediamo se riesco a mettermi grande, tac, sì, eccomi qua, sto altri 10 minuti con voi, commentiamo quello che mi state scrivendo, vediamo un attimo, allora, 184 dottore, ha la ricarica wireless? No, qualcuno scrive, Francesco, si sono ammazzati i Realme 6 Pro da soli, in realtà è un po' vero, perché il prezzo va a sovrapporsi, le specifiche anche, questo è 5G, quindi ovviamente tra i due vi consiglio tutta la vita questo, tra un'oretta, mezzogiorno, tempo di finire di montare, uscirà la recensione, vediamo un attimo, le camere frontali sono stabilizzate, solo elettronicamente, non otticamente, sconto per Natale, no dai, per il 17 luglio quando esce, allora, Saverio mi scrive, best buy, forse è stato 2,99, sì, ci sono quei 30 euro di differenza, però sicuramente un ottimo rapporto qualità prezzo, è un telefono che poi ve lo dirò nella recensione, comunque mi è piaciuto, non ho trovato baguetti, non ho trovato problemi, forse l'unica cosa, la batteria l'avrei preferita magari un po' più grande, tra i 5000 mAh, perché così a sera vi arriva con quel 10% classico, con la 5000 sarebbe arrivato col 30, quindi vi avrebbe dato un pochino più di agio, però è anche vero che si ricarica veramente molto velocemente, dopo tutte queste cose che mi sono piaciute, la cosa che forse mi è piaciuta meno è, è che non mi spiego il peso, 202 grammi non sono pochi, perché è un telefono un po' pesantino, e non sono giustificati dal fatto di avere una batteria da 4200, di solito questo peso è sulle batterie da 5000, è vero che i materiali sono i premium, vetro dietro Gorilla Glass 5, vetro davanti Gorilla Glass 5, frame in metallo in alluminio, però è un filo pesantuccio, ma non scivola, si tiene bene in mano. Poi vediamo un po' altri commenti, mamma mia quanti sono, il 5G Millimetric Wave è utile? No, non è utile sugli smartphone, perché sostanzialmente le Millimetric Wave coprono l'ultimo miglio, quindi hanno una portata ridotta, ma hanno tantissima banda, quindi le vedo più come tecnologia per collegare l'ultimo miglio, cioè se non vi arriva la fibra a casa, magari la fibra vi arriva all'armadietto in strada, e dall'armadietto antenne che puntano alle varie abitazioni, uffici che hanno sottoscritto il contratto magari 5G Millimetric Wave, e si viaggia a banda da fibra in modalità wireless. Quanto costa Francesco? Lo riassumo, 369 628, 389 828, ma probabilmente attenzione che Realme ha commentato in diretto, ho visto una cosa prima? Realme, se ti sei palesati. Sì, Realme Italia appena commentato. Allora, codice sconto Realme 55G, il prezzo con lo sconto sarà di 332,91. Devo fare uno screenshot di questo commento, aspettate, vediamo se riesco a farlo lo screenshot, così poi me lo salvo e lo piazzo su una storia Instagram, perché a 330 euro, arriviamo a quei 2,99 che lo decreterebbero Best Buy, quindi soprattutto se con un euro in più ci mettete le cuffie ci si arriva, quindi sì, a quel prezzo assolutamente sì. Vediamo se riesco a rispondere a altre domande, esiste... Andre mi saluti, ciao a tutti, farei un confrontone tra tutti i telefoni 5G di ogni categoria, quindi medio e alto di gamma, diciamo che farò un confrontone tra tutti i medi e tra tutti gli alti di gamma che mi sono piaciuti, quindi tendenzialmente ci sono anche i 5G, quindi sì. Arriva un video in stile rap, no, non arriva un video in stile rap, eccolo qua, c'è di nuovo il commento di Realme, grazie Realme che ha ricommentato così posso... eccolo qua, screenshotto, fermi tutti, datemi un secondo, ok, ho screenshotato il commento così poi ve lo metto da qualche parte, andiamo giù qua, altri 5 minuti, e lo so che sono vicino al milione, ma ragazzi sono solo numeri, non cambierà niente, sì da un punto di vista riempirsi la bocca è bello, ho un milione di persone che seguono, ma in realtà veramente grazie a tutti quelli che mi seguono, ma è un numero e voi siete molto più di un numero, ciao Estro che hai comprato il Realme 6 pochi giorni fa, sei davvero soddisfatto, sono contento, l'unica cosa Andrea che il 5G Italia non credo venga introdotto prima di qualche anno, ma come Daniele? Ma c'è già il 5G e la copertura sta anche aumentando, io che ho spesso ormai che provo telefoni e quindi ho sempre gli ultimi modelli e spesso sono 5G, trovo che la copertura invece stia aumentando abbastanza velocemente, soprattutto in questi ultimi due mesi, la micro SD non ce l'ha, no non ce l'ha, Guerriero 7, 8, 9, però c'è 128 GB di memoria, il posteriore ha uno stile Redmi Note 8, ma si ragazzi ormai i telefoni un po' si assomigliano tutti, però mi piace il fatto che Realme abbia puntato a creare un centro stile con designer europei, quindi speriamo che mi arrivino presto queste cuffie Q perché mi ispirano, video con Emalloru, ma dai uscirà in settimana speriamo, ragazzi direi che, come si ottiene lo sconto Carlo? Allora adesso approfondisco, poi uscirà la recensione e in descrizione alla recensione scriverò tutto, seguimi anche su Instagram, seguimi su Instagram che lì magari è una storia, vi racconterò assolutamente tutto, quando sarà la prossima asta su eBay? No ragazzi, basta, aste su eBay, questo OX2 Pro, ti serve 5G? Sì? No? Amoled? Sì? No? Devi risponderti tu, sono due telefoni che vanno veramente bene tutti, e farai la reaction a Moto G 5G Plus, ma anche no ragazzi, ma le reaction, ma cosa sono? Ma le lascio agli youtuber ventenni che hanno molta più voglia di fare reaction con, rispetto a me, io, sapete, faccio sempre più recensioni, devo, cioè mantengo un tono un pochino più, faccio comparative, quello assolutamente sì. Oh, questa è una domanda interessante, di, di, di Simone Nicolosin, Realme aggiorna? Sì, Realme aggiorna, se segui la mia cantinetta, vedrai che aggiorna anche abbastanza spesso, unica pecca di Splenon Amoled sarebbe stato perfetto, Giuseppe hai ragione, sarebbe stato perfetto, ma ragazzi, sapete, meno di me che il telefono perfetto non ce lo faranno mai, perché così continueranno a vendere telefoni, no, in realtà, sì, in realtà è anche un po' così, è questione anche di budget, di prezzi, a 330 euro con lo sconto, con il display Amoled 5G, non so se sarebbero riusciti. Allora, è stato divertente? Fatemi sapere, Gianluca, ti sembra una marchetta, attendiamo una recensione onesta, la recensione arriverà, voi sapete che io sono sempre onesto, perché ti sembra una marchetta? Magari mi piacerebbe confrontarmi con te, ho semplicemente raccontato i miei giorni di utilizzo, cosa c'è che va, cosa c'è che non va, ho detto che pesa troppo, ho detto che preferirei un Amoled a 330 euro, trovi un altro 5G con 765, con 128, con 8 giga di rame, bla 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 bla, quindi e soprattutto che va bene, che è fluido, che è reattivo, andasse male.